Il mito di Dracula, in ambito cinematografico, si afferma solo grazie al film di Todd Browning, Dracula, in cui il conte è interpretato da Bella Lugosi, da allora in poi la figura del vampiro, tranne eccezioni confinate ai film di serie B, e dalle parodie, non si è mai evoluta più di tanto ed è rimasta ancorata saldamente al personaggio, ormai entrato nella leggenda, dell'uomo affascinante ed elegantemente vestito di nero lanciato da Lugosi. Il film di Francis Ford Coppola, invece, si distacca dagli schemi predefiniti.